Ma cosa stai facendo Marco nel laboratorio? Intanto che aspetto di far ripartire le stampanti perché Luca è andato a ricomprarmi il PLA sono sul sito di Unione Professionisti e mi sto informando su un paio di corsi interessanti questo è sul PNRR per professionisti e imprese utilizzo questo sito, sono i nostri partner per quanto riguarda la formazione perché oltre a seguire i corsi mi danno anche diritto ai crediti formativi quindi accumulo crediti per esercitare la professione ogni ingegnere è tenuto a accumulare crediti formativi ricordatevi la scadenza del 31 marzo limite entro il quale potete autocertificarvi 15 crediti formativi andando a dichiarare le competenze che avete acquisito durante l'anno mi raccomando è molto importante